hai mai ammazzato qualcuno no sono contro contro cosa ammazzare la gente e gli animali pure gli animali sono contro però la zanzara l'ammazzi diciamo che mi è capitato di ammazzare animali di piccole dimensioni si cammini è capitato di schiacciare una formica non mi guardi non ti vedo ti schiaccio scusa formica che fai mi è capitato ammazzare animali piccoli che non mi guardavano ecco ad esempio lo scogliattolo fino allo scogliattolo perché poi lo scogliattolo lo vedi ti guarda la gallina riguarda e non l'ammazzo la zanzara non mi guarda e mi viene sotto se mi vieni sotto io d'ammazzo tu mi vieni sotto e io d'ammazzo